Quei fatti di Firenze ovviamente impongono una riflessione per quello che riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Lei ha estrapolato dei dati proprio sull'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, in questo caso proprio della provincia di Arezzo. Sì, questi sono dei dati estratti relativamente all'annata 2023 dalla nostra attività di vigilanza e controllo. Allora, a fronte di un numero di nuovi cantieri notificati, quelli notificati alla USA, Spettorato del Lavoro, che per un numero di 3432, di queste nuove notifiche, noi abbiamo ispezionato 309 di questi cantieri, quindi circa il 10%. Tra questi, quelli risultati non a norma, al primo sopralluogo, sono stati 107, quindi un rapporto di 1 a 3. In generale, nel corso sempre del 2023, i controlli sulle imprese, tutte le imprese, sono stati nella provincia di Arezzo, 423 in edilizia, 226 in agricoltura, 647 in tutti gli altri comparti, quindi industria, servizi, alcuni servizi che non siano in edilizia, eccetera. A livello di comportamento sbagliato, che poi cuba questi 156 verbali, piuttosto che 44 o 91, qual è la casistica, non ovviamente specifica del 2023, ma secondo l'osservatorio del suo ufficio, che più rilevate? Ma in edilizia sono spesso prescrizioni specifiche di mancanza di misure di protezione, di prevenzione e di protezione, quindi anche se negli ultimi anni assistiamo a una diminuzione di questi aspetti, cioè le violazioni si spostano da quelle che erano anni fa, il parapetto per intenderci, eccetera, stanno diminuendo mentre si spostano più, come nelle aziende, sul discorso di valutazione del rischio, quindi omessa magari valutazione del rischio su alcuni aspetti. Per avere un ruolo, immagino, sicuramente non aspirerete ad avere un ruolo veramente sanzionatorio o vestatorio, insomma, nei confronti delle imprese, qual è il consiglio che si sente di dare, magari affidandosi anche ai vostri uffici, ai datori di lavoro di imprese che sono piccole, addirittura piccolissime in provincia di Arezzo? Ma noi, chiaramente, come ho già detto, ci occupiamo soltanto di controllo e vigilanza, ma facciamo anche assistenza, diamo informazione e facciamo anche un po' di formazione. Il consiglio che possiamo dare, che diamo spesso ai datori di lavoro, soprattutto delle piccole e medie imprese, è quello di non pensare di esternalizzare l'obbligo di valutazione del rischio, cioè va bene richiedere la collaborazione esterna di consulenti, eccetera, però il datore di lavoro che conosce il processo, conosce la sua produzione, la sua fabbrica, è bene che lui in prima persona si occupi della valutazione del rischio, con la consulenza, con la collaborazione di magari tecnici esterni.